Musica 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 Ave o Maria, piena di grazie il Signore è con te, tu sei benedetta, brave donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave. Musica Recitiamo anche un eterno riposo per tutti i nostri cari repugni perché Sant'Antonio possa aiutarli ad associarli alla comunità dei pazzi di via. L'eterno riposo, donna loro, Signore, esplendali. La luce perpetua riposano in base a gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Musica Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Musica Prima della conclusione, ricordo alle tre e mezza, quindi c'è il trezza, ci saranno gli incanti. Vediamo un po' di essere freddi a momento bello, tradizionale del paese in cui ci vede tutti quanti riuniti e poi a Dio piacendo questa sera concludiamo con una serata con cloristica a fronte o caprese. Viva Sant'Antonio! E viva Sant'Antonio! E viva Sant'Antonio! Grazie a tutti Attenzione piano 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 Andiamo Via Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti